Mi chiamo Audrey Ngongel, sono tricologa, artista dei capelli e scrittrice. Se è la prima volta nel mio canale, ti auguro il benvenuto o la benvenuta. In questo canale mi dedico a dare delle informazioni sulla salute in generale, sulla forma fisica e sulla nutrizione. Per chi non lo sa, la figura della tricologa è colui che è specializzato nel cuoio capelluto e nelle varie perdite di capelli. Perciò questi tre elementi, la nutrizione, la forma fisica e la salute in generale, centrano con questi due organi di cui mi occupo, i capelli e il cuoio capelluto. Ma in questo canale non cerco in nessun modo di sostituirmi a una consulenza professionale medica, né a una diagnosi, né a un trattamento sulla salute. Però posso anche a distanza per te essere l'avvocata dei tuoi capelli, tra te e tuo medico, in modo da farti capire varie ragioni per le quali sia il tuo cuoio capelluto sia i tuoi capelli sono in un stato inerte. per te, anche per te, di avere delle risposte scientifiche per capire che cosa non va. Perciò oggi sto facendo questo video particolarmente perché ho delle clienti durante le consultazioni sia virtuali sia in presenza, si lamentano di un capello che non cresce, nonostante che fanno tanto, danno tanto, investono molto, sia nei prodotti sia nel tempo. Però dobbiamo anche entrare in questo dettaglio, cercherò di dare le informazioni utili che servono, ok? Il nostro capello ha un ciclo di vita e il follicolo pilifero ha la crescita del capello, lo stop della crescita e la caduta, giusto? Però quando il capello cresce ha una durata, per non farsi entrare in troppi dettagli. Succede che spesso, per varie ragioni, la durata della crescita viene accorciata oppure viene nella normalità. Per fartelo capire molto più chiaramente, ti porto nelle stagioni. Mi ricordo crescendo, i miei genitori avevano l'abitudine di dire abbiamo quattro stagioni, abbiamo, mi ricordo, crescendo in Camerun, e penso anche tu che stai ascoltando questo video, più o meno erano le stesse conversazioni. Mi ricordo, i miei genitori dicevano abbiamo quattro stagioni, due grandi pioglie e due grandi di sole, però il sole è minimo da tot mese a tot mese, ok? Però oggi non sappiamo nemmeno più le stagioni nelle quali siamo. Siamo rimasti con la stagione invernale, poi siamo rimasti con la stagione estiva, però ci ritroviamo con delle pioglie in estate e delle grandi pioglie. È un po' per paragonare il ciclo pilifero. E questo ciclo pilifero può essere danneggiato, può essere modificato da vari fattori, ok? Allora, ci sono fattori interni, ci sono fattori esterni, ok? Tu mi dirai, Odrio, io mangio bene, dormo bene, sono in salute. Sì, io non so che cosa c'entra con i miei capelli. Tu mi dirai, i fattori esterni, vivo in una bella casa, in un ambiente pulito, tutto intorno a me è più o meno vivibile. Sì, non ho dubbio, ma c'è un elemento che può essere nello stesso tempo fisico, cioè appartenere al fattore esterno e nello stesso tempo può essere chimico e appartenere al fattore interno, quello che io chiamo pensieri. Pensieri perché, aggiungendo a questo elemento, dei miei clienti hanno delle varie alopesci, come sai, l'alopesci è soltanto una parola generica, che significa che tu stai perdendo i capelli, però abbiamo delle perdite temporanee che vanno e vengono, si risolvono da sole, senza niente, senza cura, non entro in questo dettaglio. Poi abbiamo delle perdite permanente, ok? Allora, quando il tuo medico ti dice hai l'alopescia, devi avere il coraggio di chiedere al tuo medico di quale alopescia si tratta. Una volta che viene diagnosticata quella alopescia, in questo caso, parlando dei capelli, come dicevo, i fattori che possono impedire al capello di avere il suo normale processo, possiamo inserire in questo dettaglio l'alopescia androgenetica, per esempio, parlando delle anomalie del cuoio capelluto, possiamo inserire, per esempio, la psoriasi, ok? Però siamo abituati a dire che l'ho ereditato, ok? Ho ereditato dei gen mutati. Cercherò in questo video per farti capire il collegamento che c'è tra i geni sani e i geni che noi chiamiamo mutati. Perché le chiamiamo mutati? Perché le chiamiamo ereditati? Ci sono i geni ereditati, mutati? Lo deciderai tu alla fine di questo video, ok? la nostra fisiologia e il nostro corpo e come tutte le parti del corpo abbiamo vari organi, no? E questi organi hanno un funzionamento, un'organizzazione bellissima. Parlando del cuoio capelluto che sicuramente tu intenderesti la pelle ha dei recitori, ha delle cellule, ha anche dei geni. ora come tutte le organizzazioni che hanno chi risponde al telefono, chi fa questo, tutti gli organi del nostro corpo sono tutti collegati tramite geni, cellule, ricettore, ma l'organo pelle che io chiamo coio capelluto ha un'intesa molto più diretta, molto più particolare con la nostra mente, con il nostro cervello. La domanda che ti faccio sicuramente te lo spiegherò che cosa sono i geni anche per capire se i nostri geni sono collegati con quell'altro organo mente, cervello, siamo vittimi dei nostri geni e che c'entra con la nostra mente, che c'entra con il nostro cervello. Cos'è la genetica? La genetica significa i geni che hai ereditato, che controllano il carattere della tua vita, ma questi geni non le controlli né se la vittima è un po' come l'epidermide. L'epidermide è sopra il derma, l'epidermide controlla il derma. È la stessa cosa, il controllo epigenetico contro i geni. Diamo che il nostro blueprint, i nostri geni sono il nostro blueprint e questo blueprint come si dice in inglese il blueprint possiamo dire è un disegno biologico, un progetto biologico che è fatto di molecole complesse e dobbiamo rimpiazzare, rigenerare questa molecola complessa e il nostro blueprint ti dice come assemblare gli aminoacidi in modo da creare quella proteina particolare come sapere sì il nostro blueprint perché abbiamo spiegato il blueprint sono i nostri geni come si dice in inglese blueprint il blueprint sarebbe il progetto biologico il tuo design biologico la tua quell'identità ok allora questo blueprint come sapere che si è girato in modalità on o si è girato in modalità off è la nostra mente perché il nostro blueprint non può girarsi in modalità on è in modalità off la nostra mente ha la capacità di leggere il nostro blueprint la nostra mente ha la capacità di cambiare il nostro blueprint la nostra mente ha la capacità come un architetto di correggere il nostro blueprint ha anche la capacità di creare la molecola questa proteina sana non la proteina mutata le problematiche che noi abbiamo non sono sempre ereditari no perché la nostra mente ha la capacità di produrre creare milioni miliardi di proteine di blueprint partendo dallo stesso blueprint ma avendo alla base il condizionamento per questa moltiplicazione parte dalla percezione nella nostra mente questo significa che noi non ereditiamo dei geni malati non ereditiamo i geni mutati ereditiamo i geni sani e la nostra mente altera i geni dal gene sano diventa uno malato uno mutato do un esempio do due esempi il primo esempio crescendo mi ricordo molto bene il medico disse ai miei genitori non dovrete mai fumare perché i miei nonni fumavano molto e le conseguenze erano terribili di cui nella mia famiglia nessuno ha mai fumato abbiamo ripetuto questa frase generazione dopo generazione dicendo nella nostra famiglia abbiamo una malattia ereditaria si chiama la tensione arteriosa ok poi nell'invecchiare la mia madre ha avuto la malattia di Parkinson ora quando devo parlare dovrei dire abbiamo la tensione arteriosa poi abbiamo la malattia di Parkinson poi mio padre aveva l'attenzione negli occhi poi mio padre aveva il glaucoma però studiando oggi mi rendo conto che la malattia di Parkinson viene dal fatto che non c'è più la neuromelanina nel nostro cervello studiando mi rendo conto che l'accumulazione tanta accumulazione di sostanze nella nostra sostanza nigra che si trova nel nostro cervello e studiando mi sto rendendo conto che è troppo ferro che si trova nei neuroni che con tante altre cose creano questo disordine neurologico vite vite e anni di battaglia in cui uno non se ne rende conto nemmeno che i suoi neuroni che sono le cellule del suo cervello come i melanociti che quando la neuromelanina non c'è più in quelle cellule allora abbiamo delle problematiche nell'ambiente dei capelli molte delle volte le famiglie in cui vado sia a lavorare sia che vengono a fare le consultazioni tricologiche partono dal fatto che non ha la lupescia papà è calvo tutto questo è possibile sì però papà può anche essere calvo avendo ereditato dai due genitori ora lo sappiamo comunque noi sappiamo che l'alopecia androgenetica può saltare le persone in famiglia è una sorta di lotteria genetica significa che se l'ambiente lo permette se si è un ambiente favorevole che di arrivare a 50 anni la tua alopecia androgenetica ti può dare molta bella vita e felicità con un capello molto molto folto che magari quando avrai 70 anni però se lo stesso ambiente non è favorevole perché qua parliamo dell'ambiente non è solo dove abiti i tuoi pensieri allora tu hai 7 anni stiamo avendo i casi dei bambini di 7 anni che hanno queste cose che cosa voglio dire voglio dire che molte delle volte le nostre problematiche dei capelli nostri problemi hanno dei segnali sul nostro cuore capelluto hanno dei segnali nella secressione del nostro sebo e detto questo come ho detto tutto questo viene dall'interno ma mi raccomando tutti quanti cominciamo anche a mettere il filtro su quello che diciamo su quello che pensiamo perché tutto si trasforma in chimico dentro e questo il cervello ha la potenza di rendere il fisico chimico il pensiero diventa chimico tramite il neurotrasmititore di